musica e cosa serve il computer? per mettere i letteri su internet per mettere i letteri su internet e perchè le cerchi? a sapere come funziona loro comunque lì essendo in un paesino molto piccolo non sanno cosa come funziona con la piccola e quindi sono interessati a sapere cosa succede nell'altra parte del mondo quindi noi abbiamo un modo per cercare di capire anche come vivete voi tutti i giorni secondo voi loro lo sanno come vivete tutti i giorni e secondo voi possono essere interessati a sapere come voi allora dobbiamo fare in modo per cercare di capire prima o meno una cosa importantissima i banchi, i portapenne i banchi i banchi i libri i libri bravissimi dove stanno i libri? i banchi e quindi un'altra cosa perché prima abbiamo detto che loro non hanno i banchi i libri sono importanti perché con i libri si sono studiati sanno delle cose si imparano cose nuove quindi anche loro vogliono leggere ciao 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 Grazie a tutti.